E' normale che nel tempo, magari tra vent'anni, ci ritroveremo a Veneziona e ci saremo noi, magari, e riparleremo di questo e loro hanno fatto dei passi avanti notevoli. Io sono assolutamente convinto che l'aspetto muscolare sia importante, ma non bisogna demonizzarlo, perché è come dieci anni fa il lattato, ah il lattato, ah il lattato, se non fai il lattato ragazzi non ti stai allenando, questa è la verità.